C'è un tratto della passeggiata dell'usenso che in dialetto si direbbe Fia de Nisunna, che si contraddistingue dal resto della passeggiata sull'usenso per la trascuratezza. Per una volta non parliamo del tratto che del traghetto va al Mosella, per il quale ci stiamo aspettando l'inizio dei lavori che, come è stato detto, devono partire ogni autunno o in primavera. Siamo alle porte dell'autunno per cui ci auguriamo che sia la volta buona. Stavolta parliamo del tratto che più o meno va da Via Maranto ai cantieri navali. Il Piano dei Ghezzi prevede una riqualifica di tutta l'area, ma non sembra sia in partenza breve, viste anche le criticità sulla viabilità che andrebbero risolte. Del Piano dei Ghezzi si è sentito parlare con maggior, tra virgolette, urgenza con l'amministrazione Ferro. Intanto gli anni passano e il degrado della passeggiata comunque non migliora. A parte le erbacce che crescono tra le fughe della pavimentazione, anche in questa zona i blocchi mostrano il cedimento, ma sono i marmi bianchi quelli a mostrare un'evidente sofferenza. Si parla della pietra distria come di materiale per eccellenza per le nostre aree, ma da come si sono spezzate le lastre, scalfite, rovinate in un relativamente breve lasso di tempo, viene il dubbio che neppure la pietra distria sia più quella di una volta. In ogni caso, in questo tratto, al momento, non sembra sia previsto alcun tipo di intervento. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.